Ciao a tutti ragazzi e benvenuti conoscendo io, io sono Michi Loh Ragazzi siamo a 50 visualizzazioni in soli 2 video E il mio canale l'ho fatto in soli 3 giorni Una roba pazzesca Oggi avevo pensato di creare il mio stickman Cioè me disegnato Cominciamo subito Allora Prima facciamo lo stickman Qua lo facciamo in aero ovviamente non lo facciamo rosa perché Gli stickman non sono mai rosa Ecco qui la testa Poi maglietta Allora il mio colore preferito dovete sapere che è rosso Quindi lo facciamo di rosso Oh Vi avverto che non sono un mito del disegno Però Potrebbe andare Oh ecco poi pantaloni Pantaloni li facciamo blu Perché i jeans così se metrano tutti i jeans Allora Ecco Qui Ecco Ecco Manca l'altro lato Fatto Fatto Poi Ah scarpe 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 Le facciamo Gialle Facciamole gialle Allora Ecco qui Un paio di scarpe Un fashion Ed ecco qui un'altra scarpa Aspettate che mi sono dimenticato di fare una cosa Allo stickman Ecco Sembra quasi paperi Allora facciamo gli occhi Sembra più una bambola assassina Allora ecco Facciamo i capelli Facciamo marroni C'è capelli marroni No Facciamo li neri No c'è il marron Qua Ok Fatto Non è finito ovviamente il mio stickman Perché ci vuole un animale Da compagnia Visto che è un cane Lo cambieremo Faremo Un uccellino Un uccellino Lo faremo verde Colore che non abbiamo utilizzato Eccolo Il busto L'apertura Alare Sì Ma che ce l'ho fatta così Poi zampe gialle Con le mie scarpe Ecco Sta venendo bene Becco giallo Testa rossa Ecco qui Mettiamo Una C Grifondoro Vai Gli occhi No un occhio perché ti ho dato Fallo Poi Qui facciamo il segno di youtube Infine E Facciamo così fatta Così fatta Così fatta Oh finito Ragazzi se il video vi è piaciuto Iscrivetevi subito al mio canale Michele Paese Oppure alla pagina di Instagram Official Michelo Vi saluto ragazzi Ci vediamo al prossimo video